Tina Cipollari ha rilasciato una lunga intervista al sito gay.it, nella quale ha commentato l'avvento del trono gay nella trasmissione Uomini e Donne. Questa svolta, pensata da Maria De Filippi per narrare la normalità dell'amore in tutte le sue forme, rende molto felice l'opinionista. Sono felicissima. Non aspettavo altro. Era una cosa che ho sempre sperato e detto nelle varie interviste che ho fatto. Maria è una donna intelligentissima e sta trattando il tutto con la massima naturalezza che questo trono merita. Il video di presentazione del trono gay, che gira già in rete, ha spiazzato per la massima normalità e sono certa che sarà di grande aiuto per la nostra società. Le critiche piovute sul trono gay potrebbero dissolversi nel nulla, dopo la messa in onda della prima puntata. Le critiche ci saranno sempre. E poi le dirò. Non ho ancora letto niente di così offensivo, anzi. Penso da sempre che la differenza sia solamente negli occhi di chi guarda. Io non ci ho mai visto nulla di strano, neanche quando non ero un personaggio pubblico. Pensi, che in passato, mi ero anche innamorata di un ragazzo gay. Infine, la bionda opinionista ha detto la sua su Claudio Sona. Ha spiegato di reputarlo una persona educatissima, riservata, seria e con poche velleità artistiche. Quindi ha concluso. Tralasciando l'indiscutibile bellezza, è un ragazzo d'oro. Poi non posso prevedere il futuro, però, se il buongiorno si vede dal mattino. In quei pochi momenti di pausa, scherzando e ridendo, dico sempre, seppur a microfono spento, la mia. Meglio quello, quell'altro mi piace di più. Per gioco ovviamente sa cosa mi ha risposto Claudio. Diamogli il tempo di farsi conoscere. Non soffermiamoci solo sull'estetica. Anche nel gioco si è dimostrato un ragazzo puro. Sincero. Che se ne frega.